Trio! Difendersi è non solo licito, anche un'espressione di amore alla patria. Ma può essere immorale, si si fa con l'intenzione di provocare più guerra o di vendere le armi o scartare quelle armi che a me non servono più. La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di quest'atto. Difendersi è non solo licito, anche un'espressione di amore alla patria. E non dimentico la martoriata Ucraina. C'è un'espressione di amore. 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 E difendersi è non solo licito. C'è un'espressione di amore. C'è un'espressione di amore. Un'espressione di amore. Ricольно. Grazie.